Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e oggi vi porto una notiziona riguardo una live che farò domani ragazzi in cui metterò in palio un account glicciato ragazzi non m'ho dato ma glicciato quindi fate bene attenzione non mi cominciate a romper cazzo sotto il video e chiedermi oh ma quanti soldi, non vi deve fregare un cazzo ve lo sto a regalare quindi già non vi deve fregare un cazzo ovviamente non vi regalo un account con 100 lire dentro è ovvio quindi partiamo subito con i requisiti neanche tanto i requisiti perché non ci sono requisiti l'importante è partecipare quindi per vincere dovete partecipare allora come si svolgerà la live ragazzi? la live si svolgerà speriamo di riuscire a farla perché sto organizzando con il mio staff speriamo di riuscirla a fare due live contemporaneamente sul mio canale speriamo sempre di riuscire a farlo non so se youtube lo permetterà però presumo di sì se in caso non fosse sarà solamente una comunque sia che cosa accadrà in queste due live ragazzi? in queste due live si disputeranno due gare da 29 giocatori l'uno perché la gara giustamente ne porta 30 però in una dovrà entrare il mio uno membro del mio staff e nell'altra dovrò entrare io quindi in pratica saremo 58 persone ok? e queste persone ovviamente non è che io vado a invitare chi riuscirà a entrare in queste gare parteciperà ragazzi quindi mi raccomando siate presenti domani alle 16 sul canale e in pratica passiamo a come si svolgerà il tutto allora il tutto si svolge che in ogni live si disputerà una gara quindi una volta disputata la gara i primi 14 di ogni gara o meglio delle due live i primi 14 di una live i primi 14 dell'altra live parteciperanno a una terza gara ragazzi che ovviamente sarà sempre in live e questa terza gara ci saremo io e il mio compagno di staff in pratica comunque sarete in 28 e il primo di questi 28 il primo quindi ci sarà solamente un vincitore ragazzi vincerà questo account domani seduta a stante cioè finita la gara gli diamo l'account quindi mi raccomando partecipate condividete il video perché c'è bisogno di condividerlo sto video aiutatemi pure a crescere perché non penso che ci siano altre persone che fanno queste iniziative dal momento che comunque un account glitchato costa tempo farlo non penso che tanti lo regalino così facilmente io invece ve lo regalo proprio non me ne frega un cazzo ve lo regalo è offerto da me e dal mio staff questo account ragazzi quindi ve lo godrete insomma questo account ha i soldi questo account ha il rango diciamo che no diciamo senza diciamo ha il ceo ha il motorcycle club insomma c'ha parecchi cazzetti ragazzi l'account quindi tutto quello che si può fare con un account glitchato ovviamente non è che ovviamente non ha l'impossibile però ha parecchie cosine quindi penso che per uno che stia cominciando adesso a giocare a GTA ma anche per uno che comunque gioca da tempo e magari ha bisogno di un account nuovo perché non ha fatto glitch dei soldi o perché vuole qualche soldo penso che sia un'opportunità abbastanza buona quindi non vedo il motivo per cui non possiate partecipare comunque sappiate solamente che i 58 che riusciranno ad entrare ovviamente nelle live nelle gare andranno a partecipare quindi mi raccomando solamente le prime due gare perché poi comunque la terza gara quella che si disputerà andrà a prendere 14 persone di una gara e altre 14 persone dell'altra gara e chi vincerà questa gara l'unico vincitore riceverà questo account ragazzi meglio di così io non so che dire cioè è un'iniziativa giusto per stare insieme per giocare un pochino insieme quindi l'unica cosa che dovete fare è iscrivervi prima di tutto al canale se volete partecipare alla live perché io vi vado a controllare poi se non siete iscritti se non me dite il nome se non siete iscritti poi non va certo ragazzi quindi vi dovete iscrivere al canale no scherzo comunque iscrivetevi veramente al canale condividete questo video ci saranno anche altre live su questo tipo come ho promesso ci saranno anche altri contest quindi rimanete aggiornati sul canale per tutte quante le informazioni per quanto riguarda i glitch dei soldi ragazzi ce n'è uno ma è un dito al culo farlo non so se lo porterò vedrò di cercare di portarlo detto questo il video finisce qui un saluto a tutti al prossimo video ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ciao a tutti ma che ne sono le due Grazie per la visione!